Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube, io sono Andrea Zamburlin, il regista del film J-Loop e oggi parleremo dell'anime di Dragon Quest The Adventure of Die. A distanza di un triliardo di anni arriva finalmente la nuova serie di Dragon Quest The Adventure of Die che riesce a completare e ad adattare in tutta la sua interezza l'opera del manga che è rimasta fino ad ora inedita per quasi metà. Infatti la precedente versione animata si interrompeva più o meno a metà della storia. Quindi questa è una grande occasione per innanzitutto rispolverarla con le nuove metodiche di animazione, con le nuove tecnologie, con delle nuove musiche, con un nuovo appeal e per poter permettere così anche alle nuove generazioni di apprezzare questa grandissima storia epica. Rispetto alla vecchia versione è chiaro fin da subito dalla prima puntata che la Toya Animation ha deciso di stanziare un budget veramente considerevole. Questo in virtù sicuramente di un piano e di un rilancio del brand ben preciso. Tant'è vero che infatti è arrivata su tutti gli scaffali una nuova versione del manga che però tuttora è rimasta incompleta e quindi Star Comics che sta succedendo? Perché siamo fermi da due anni al volume numero 5? Comunque parlo ovviamente di questa e da grande poi fan ovviamente vi spongo anche della primissima vediamo se si vede c'è il riflesso della luce. Ok qua. Ta-dam! Come dicevo la prima cosa che salta all'occhio è la grande cura nelle animazioni che sin dalla prima puntata mostrano i muscoli. Questo però chiaramente, ma noi ormai lo sappiamo, non può essere la costante di tutti gli episodi e in tutta la loro interezza. Quindi ragazzi ci saranno sicuramente tanti episodi disegnati in maniera normalissima e nei momenti salienti, nei combattimenti e nei momenti clou vi garantisco invece non vi mancherà l'entusiasmo per quello che vedrete perché c'è una grandissima e una bellissima interazione tra 2D e 3D, un grande dispiego di mezzi in tutte le salse quindi un grande lavoro sia a livello scenografico che di regia per come si muove la telecamera all'interno della scena, per come sono le inquadrature, poi saranno le musiche ma ne parleremo tra pochissimo senza farci rimpiangere, anzi semplicemente ponendosi al paro livello se non in certi casi addirittura anche superiore in alcuni pezzi a quello che ci ha abituato ultimamente Toy Animation con One Piece, nelle puntate quelle forti e al paro anche di alcune scene di Dragon Ball Super Brawley. Per quanto le animazioni possano avermi colpito per il livello alto, comunque sarebbe stato abbastanza scontato ecco aspettarsi un livello del genere, cosa che invece non lo era assolutamente in merito alle musiche le musiche mi hanno spiazzato. Yuki Hayashi, che è il compositore, è stato veramente abile nel innanzitutto creare un tema principale fortemente orecchiabile che rimane impresso nella memoria dello spettatore e ci accompagnerà poi per tutta la visione, tra l'altro cambiando tonalità, cambiando strumenti ritmi differenti con lo stesso tema e questo è veramente molto gradevole però il grande punto di forza è stato quello di, man mano che la storia prende una deriva molto più drammatica, epica, violenta le musiche seguono questo cambiamento ma non solo lo seguono ma lo rimarcano e in certi punti lo esaltano perché vi garantisco che ci saranno delle scene, soprattutto verso il finale, dove l'entusiasmo che vi viene fuori vedendo quelle immagini ma ascoltando queste musiche sarà veramente altissimo vi esalterete e penserete di essere di fronte non a un anime ma a un film vero e proprio e in tutta onestà mi sono anche immaginato, porca puttana ma queste musiche sono quasi sprecate per un prodotto tv vorrei sentirle su un film al cinema e come ogni buon shonen ci sono tutti i temi a noi cari quindi questo vuol dire dal forte senso di amicizia, di sacrificio, di solidarietà, di fratellanza, di rispetto e di redenzione perché finalmente possiamo goderne anche nella versione animata di tutta quella parte dell'arco narrativo finale in cui c'è la redenzione di Hadler, di Kim, vabbè Hünkel era già partita prima però insomma ci sono dei discorsi tra l'altro non da poco a livello proprio di profondità e di messaggio e di filosofia se vogliamo anche vederla sotto questo punto di vista anche se però in tutta onestà devo sottoscrivere una piccola lamentela ed è questa eccessiva verbosità nelle ultime puntate finali dove Pop insomma fa tutti i suoi discorsoni ma anche Leona e altri personaggi, Kim, c'è un momento in cui Hadler, porca miseria dove veramente lo scontro si blocca e stanno lì a parlare per due puntate di fila ma con frasi veramente molto lunghe, molto complicate che spezzano in maniera eccessiva il ritmo della storia c'è veramente un eccesso di dialoghi, un eccesso di verbosità esagerato quindi signori dopo tanti anni di assenza Toy Animation si è ricordata che esiste il sangue e questo è un grande bene per noi perché non ci può essere epica, non ci può essere sacrificio se non c'è sofferenza e la sofferenza la vediamo con il sangue perché Dragon Ball Z trasudava di epica, di fatica per riuscire a sconfiggere il nemico perché i personaggi sanguinavano, si facevano male davvero, erano tutti abrasi invece ad esempio in tutto Dragon Ball Super praticamente se non nelle ultime puntate il sangue non c'era, quindi vedevi questi mega combattimenti anche molto belli, fighissimi però non ti dava mai l'impressione che i personaggi coinvolti nello scontro stessero veramente rischiando la vita che stessero veramente soffrendo quello che dicevano di soffrire perché non sanguinavano invece qua finalmente, ok, ci sono un po' di litrate di sangue anche se in misura un po' più contenuta rispetto a quello che avrebbero potuto fare negli anni 90 o anche solo in confronto alla vecchia versione anime tra l'altro hanno anche adottato lo stratagemma che tutta la parte mostri di Dragon Quest sanguinano blu solo gli umani sanguinano rosso concludo dicendovi che sono 100 puntate per l'adattamento di 37 tankobon quindi gli episodi in sé non sono tanti quindi è chiaro che hanno dovuto comprimere e sfoltire un po' alcuni eventi ma non vi mancherà nulla la storia andrà fluida in avanti senza farvi percepire buchi di sceneggiatura o salti di eventi quindi sarete completamente soddisfatti ve la consiglio al 100% e mi viene in mente solo l'unica grande critica oltre alla eccessiva verbosità degli ultimi eventi ma ve l'ho detto prima che è l'outfit finale di Mam allora, permettendo che hanno tagliato qualche scena ecci ma chi se ne frega allora nel manga è particolarmente sgambato con molta carne di fuori in questa versione anime invece hanno optato per farle indossare dei collant penso, perché non c'è nessun altro motivo per cui debba essere fatta una cosa del genere per smorzare la sessualizzazione del corpo di Mam ma io dico, porca miseria, è un personaggio di finzione è un personaggio anime, non esiste e se il suo outfit aiuta a prendere una fetta di fan ma che problema c'è? se io sono un fanboy che mi guardo Dragon Quest solo perché spero di vedere le cosce di un disegno animato qual è il problema del mondo verso queste persone? cioè perché devono limitare questa cosa? io non la capisco e... bah, è assurdo vabbè, molto bene io ho concluso di dirvi tutto quello che volevo raccontarvi su Dragon Quest dell'Adventure of Die lo trovate sottotitolato in italiano su Crunchyroll non esiste al momento alcun doppiaggio nella nostra lingua noi ci vediamo alla prossima video recensione ma se non lo avete ancora fatto e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale è importantissimo potete anche seguirmi sui social a me, io sono Andrea Zamburlin e il mio film che si chiama G-Loop trovate sempre all'interno del mio canale tra l'altro trailer e clip del suddetto film quindi ci vediamo alla prossima grazie per l'attenzione e ciao!